ciao a tutti come vedete siamo sul desktop di un pc e questo perché perché voglio mostrarvi il nuovo sito di esperienza mobile il sito ufficiale andiamo a vederlo eccolo qua allora per trovarlo basta digitare www.esperienza mobile.it ringrazio amici matteo e riccardo che mi hanno aiutato con il sito ringrazio amico davide che mi ha fatto i loghi come al solito anche sul canale youtube allora in ogni caso vediamo com'è fatto sito molto semplice come vedete molto minimale cosa perché a me piacciono i siti diciamo rapidi e intuitivi da da visitare non quelli con 20.000 colonne e informazioni in prima pagina dove non si capisce quasi mai dove cliccare per le informazioni che si cercano allora vediamo com'è fatto in alto a sinistra abbiamo un logo esperienza mobile perché si clicca sopra si torna all'inizio della stona la pagina principale qua sotto abbiamo una barra con home recensioni e contattaci qua abbiamo uno slide con delle foto che rimandano degli articoli qua abbiamo rimanda una foto del g flex che rimanda all'articolo all'unboxing del g flex non avanti qua abbiamo una foto per esempio mia con la mia faccia la scemo che rimanda un articolo di benvenuto eccolo qua vi invito a leggerlo così capite un po meglio cosa intendo fare del sito andando avanti si trova sempre sulla pagina di sinistra le varie notizie dove trovate anche le recensioni tutto messo tutto misto qua perché comunque anche le recensioni sono delle notizie ce ne stanno massimo 8 se no si va a articoli precedenti e si va a leggere quelli precedenti qua abbiamo una freccetta che ci riporta all'inizio della pagina e voilà sul lato destro diciamo che vedete che è di un grigio un po chiaro abbiamo il link al canale youtube io vi ricordo che sono nato principalmente come youtuber prima che come blogger poi abbiamo il link alla pagina facebook quindi vi invito a visitarla mettere un mi piace dove trovate di solito scrivere l'anticipo cosa recensirò delle curiosità e quant'altro e la pagina twitter che per adesso non ho ancora mai usato però pian pianino comincerò ad utilizzare qua abbiamo un cerca nel sito dove potete scrivere per esempio lgf6 e trovate tutti ecco in questo caso la recensione del f6 qua abbiamo articoli recenti con gli ultimi articoli con la data di quando sono stati pubblicati e i commenti recenti ringrazio quelli che hanno già visto il sito che hanno già commentato torniamo alla home vediamo la barra home abbiamo un punto da home recensioni schiacciamoci sopra troviamo le recensioni eccole qua vedete anche qua per adesso sono miste quindi farò varie recensioni samsung lg ngm tutte messe insieme quando cominceranno ad essere un numero abbastanza importante dividerò la voce recensioni con tutte le varie sottocategorie quindi apple in ordine alfabetico arcos e quant'altro e verrà giù una specie di lista quindi sarà ancora più semplice trovare le recensioni che cercate ma comunque basta scrivere qui la recensione la trovate ancora più facile diciamo che io non farò recensioni retroattivamente quindi comincerò da adesso a fare le recensioni scritte dei terminali in prova non farò quelle dei vecchi terminali anche se anche di quelli più importanti perché comunque non è non è facile starci dietro da adesso in poi invece le farò costantemente tutti i terminali in prova troverete la recensione adesso andiamo a vedere come è fatta e sul canale youtube troverete il video con sotto il link per la recensione scritta sulla pagina contata ci basta mettere nome email e testo da inviare e io qua vi invito a mettere consigli per migliorare il sito o comunque non domande su terminali perché comunque quelle potete farle sul canale youtube o su facebook andiamo a vedere come è fatto la recensione come penso di fare le recensioni da adesso in avanti allora come vedete qua lgf6 recensione contenuto alla confezione con la foto del contenuto una scheda tecnica rapida diciamo con le dimensioni le informazioni hardware e la connettività poi qua parte la recensione vera e propria dove divido la divido appunto in display prestazioni recezione antenne fotocamera autoparante batteria prezzo e conclusioni e alla fine metterò anche qua il mio voto in cicciottello il voto che alla fine prende anche nel video e qua sotto mette il link per l'unboxing e la video recensione che potete anche condividere sia la recensione che le news con facebook facebook twitter google plus e mail con questi tastini per mettere un commento molto semplice basta mettere il nome email e il commento perfetto niente questo per adesso è il sito vi ripeto all'inizio siamo in quadro adesso ho qualche collaboratore diciamo che mi ha scritto più di qualcuno adesso sto vedendo di sistemare un po tutti non posso ovviamente dare l'ok a 20 persone però comunque se vedo che siete volenterosi scrivete molto e siete anche bravi posso vedere di aggiungervi al al gruppo cos'altro dire sì dicevo io sul canale sono da solo quindi comunque tutte le recensioni che faccio me la sbrigo da solo e devo starci dietro perché comunque mettere i collegamenti sui video rispondere ai commenti è un lavoraccio adesso anche qua sul sito io scrivo le recensioni e qualche articolo ho già un collaboratore che ringrazio e se ne stanno aggiungendo altri come dicevo comunque anche qua è difficile stare dietro tutto quindi dato un po di tempo all'inizio per ingranare per di più adesso è un periodo di esami come sapete io faccio l'università quindi sarò ancora più impossibilitato a starci dietro comunque farò del mio meglio come sempre spero che il sito vi piaccia appunto scrivetemi per aiutarmi a migliorarlo e scrivetemi cosa ne pensate anche obiettivamente sicuramente vi dico non adesso prima di entrare non so quando voi cercate una recensione prima di arrivare in prima pagina su google sarà sarà un po dura quindi datemi una mano con le visualizzazioni seguite il sito commentate quant'altro così pian pianino riusciamo a farci uno spazio anche sul web non solo su youtube e basta cos'altro dire spero vi piaccia e per questo video è tutto ci vediamo nelle prossime recensioni nei prossimi video un saluto da lorenzo per l'esperienza mobile ciao